ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video allora la domanda nasce spontanea ma basteranno 5 newton metri basteranno 8 newton metri e la domanda è riferita all'annuncio appunto del csl dd che fanatec ha fatto dicendo che avrà capacità di 5 newton metri che poi adattando un alimentatore in più potrebbe arrivare a 8 newton metri la domanda è fatta da ivano che dice dedicato a tutti quelli la domanda fa un commento fantastico dedicato a tutti quelli che dicono che gli 8 newton metri del nuovo csl non saranno abbastanza e un'altra un'altra un altro commento molto interessante di e come no che dice mi domando se alla fine poi serva davvero tutta questa potenza rispondiamo a tutti innanzitutto per quanto riguarda ivano il discorso 58 newton metri dici se bastano meno bisogna sapere ragazzi che il nuovo csl dd avrà un motore diverso da questo qua cioè la struttura sarà diversa sarà ripensato e soprattutto la gestione dei filtri non sarà la stessa e qui mi riallaccio al discorso mi domando se alla fine poi tu serve a tutta questa potenza di e come no in realtà la potenza serve ragazzi per ottenere maggior dettaglio al volante maggior feeling al volante però questa forza deve essere gestita controllata filtrata in modo tale da non rendere impossibile la guida ieri ragazzi mettendo 100 per cento sul volante 100 per cento sul software è ovvio che diventa ingestibile mi restituisce dei picchi che vanno oltre il 100 per cento della capacità di quello che domanda il software al al volante viceversa e quindi va in clipping e quindi conseguenza non è reale quello che succede infatti il mio è un video a cazzeggio ragazzi non è una prova scientifica che no assolutamente era solo per dire ragazzi mettiamo l'accento vediamo che succede cioè in questo senso qua bisogna prendere il video di ieri ed oggi in realtà non posso neanche comprovare che 5 e 8 newton metri di quel volante lì che ancora deve uscire che avrà una tecnologia di motore direct drive completamente diversa da questa e con una gestione software probabilmente diversa da questo è un paragone che non esiste ma è ancora una volta solo per dire ma un direct drive di 5 newton metri bastano e questa è la domanda allora io vi dico una cosa già la risposta ci sta ma certo se già i motori a cinghia 5 3 4 2 newton metri ci hanno bastato fino adesso secondo voi un direct drive da 5 8 newton metri non basta per me si oltretutto la gestione dei filtri e questo basta per chi ha un direct drive un dd1 ad esempio come il mio aprite fanalab d'accordo adesso ve lo faccio vedere che è qua e vedete ci sono in alto 1 2 3 4 e 5 praticamente sono 5 configurazioni possibili che si possono appunto utilizzare sul fanatec in base al simulatore in base alle proprie esigenze quello che volete tutta questa serie di filtri che ci sono se io vado ad agire su questi filtri lasciando le forze uguali come sono il feeling è completamente diverso è un'ovvietà che vi sto dicendo però è importante dirlo perché oggi posso impostare il mio volante che abbia un picco massimo di 5 newton metri e mettere dei filtri al minimo probabilmente non sento nullo avrò troppa forza non so viceversa in realtà se vengo ad aggiustare bene le forze possa avere un dettaglio pazzesco ora non mi sono diciamo messo ad andare a studiare il minimo dettaglio per i 5 newton metri perché non mi interessa un volante da 15 a picco a 20 ovvio che voglio sfruttare un po di più e quindi filtrare come come si deve quindi facciamo una prova con una sola ed unica configurazione questa qui che mi sembra anzi ne utilizziamo due che mi sembra diciamo abbastanza interessante andiamo a sfruttare quindi la 2 e la 3 quindi mettiamo 25 per cento per arrivare a un massimo di eccolo qua di più o meno 5 e qui mettiamo automatico anche così ecco qua vedete le forze sono i filtri sono completamente diversi iniziamo con la configurazione 3 e questa tecnicamente come vedete in bassa a sinistra del vostro schermo vi ho fatto come ieri la stessa cosa così vedete i picchi e quanto sta lavorando il il volante allora 25 per cento e poi così vedete anche la reattività in alta a sinistra del volante allora partiamo vabbè lo depression lo so ragazzi però quindi probabilmente ci saranno i picchi e che andranno oltre 5 però di base io vi racconterò quello che sento come dettaglio d'accordo allora già si sentono non male le imperfezioni che ci sono sull'asfalto andiamo a vedere sullo rouge sento le vibrazioni ecco vedete 5,3 non so se vedete comunque il volante io ho delle sensazioni e riesco a guidare tranquillamente stiamo parlando di 5,3 newton metri di picco massimo che abbiamo avuto e vedete sento lo spostamento del peso un po' meno il dettaglio sulla sinistra del cordolo questo l'ho sentito bene proprio perché è piatto questi li sento le vibrazioni quasi sente che sale ed è un un'impostazione del tutto gradevole alla guida si sentono i dettagli è ovvio che sfruttando meno quelle che sono le capacità di questo motore sia meno sensazione meno feeling è ovvio e stiamo parlando di un filtraggio che è corrispondente a uno che dovrebbe sfruttare il 100% di questo volante quindi tecnicamente se io abbassassi probabilmente avrei un po' più di dettaglio però in ogni caso è gradevole piacevole da poter guidare tranquillamente si sentono le vibrazioni si sente insomma quello che sta succedendo sull'asfalto ecco per esempio qui lo fatto che è partita si è sentita ma non come si dovrebbe sto parlando di assetto corsa competizione tecnicamente bisognerebbe testare altri tipi di di simulatori per vedere l'efficacia o meno magari su r factor 2 ecco qua il passaggio sulla terra si è sentito molto bene con un picco vedete il 5.3 quindi è abbastanza realistico quello che dovrebbe essere la forza almeno restituita sui picchi mamma mia ragazzi ecco qua si sente però bene vediamo l'urto l'urto non ha fatto assolutamente nulla quindi questo è con questo tipo di filtro adesso andiamo a cambiare il filtro mettiamo il numero 2 e in cui ci sono dei game effect un po' più importanti andiamo ai pit conferma e continua vediamo quindi stessa forza ragazzi stessa forza stessissima forza con un filtro completamente diverso ma già si sente molto più rude da degli scossoni 5.3 già in uscita dei box ragazzi 5 newton virgola 3 vediamo ma si sentono le vibrazioni proprio della velocità e le imperfezioni frenata saliamo sul cordolo uh mamma mia che botta 5.1 di botta ragazzi però vedete i filtri la reattività del volante lo vedete in alto a sinistra è diversa però lo scivolamento laterale si sente poco devo dire la verità sarà probabilmente force feedback di assetto corsa competizione non lo so però comunque già con questo filtro si sente ecco qua la reattività è diversa comunque è un force feedback di tutto rispetto a 5 newton metri vedete che i picchi sono adesso però andiamo a vedere se mettendo 150 euro in più eventualmente per un csl dd ma vi ripeto ragazzi è strutturalmente diverso sarà un altro allora saliamo mi pare a 37 dovrebbe essere 30 38 per cento rimaniamo con questa prima configurazione partiamo vediamo ah già c'è un po' più di peso si sente già un po' più il peso della macchina la resistenza vedete che serve la potenza ragazzi alla gestione del dettaglio si ovviamente avere più forza avete 8.1 già questo è un trasmaster tcps se non sbaglio ho una csv 2.5 vado sui cordoli sente bello il dettaglio sente la forza g centripeta no centrifuga scusatemi qui le vibrazioni andiamo alla staccata ah e qua le vibrazioni quando scivola lo slittamento lo saltelamento laterale si sente quindi probabilmente con un la gestione dei filtri un po' diverso per quanto riguarda i 5 newton metri si dovrebbe sentire qualche dettaglio in più però bisognerebbe mettersi lì a studiare ogni singolo filtro aumentare o diminuirle in modo in base alle forze però già questo a 8 newton metri ragazzi con questo tipo di filtro è pazzesco eh senti qua come ruggisce il volante ragazzi è proprio una figata e si lascia guidare alla grandissima ah da qua no 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 eh io penso che con un filtro come si deve adesso cambiamo mettiamo come là però il primo filtro che avevamo utilizzato con il 5 newton metri e dobbiamo mettere ovviamente al 37% perché se no non è la stessa cosa quindi 37% ecco qua altro filtro allora il peso della macchina c'è la reattività pure il volante è più reattivo però c'è meno dettaglio con questo tipo di impostazioni di filtri ragazzi la ricerca della giusta configurazione di filtri vi può veramente cambiare le sensazioni alla mano credo che l'altro filtraggio e l'altra impostazione li chiamo filtraggio ragazzi ma mi capite bene l'altra impostazione in realtà è più divertente più divertente più dettaglio più presente vado proprio a cercare mamma mia 7.4 di di picco vediamo l'urto poca roba però c'è l'oscillazione ragazzi io vi dico la verità si bastano sia 5 sia 8 8 sia ovviamente più dettaglio sia ovviamente più sensazioni di peso più le oscillazioni i cambi di direzione sono presenti il cambio di trasferimento di peso sono presenti rispetto a quello che è un 5 newton meter però bisogna sempre ricordarsi che la gestione dei filtri è di fondamentale importanza per poter ottenere quelli che sono i dettagli che vi restituisce il volante è ovvio che tra 5 e 8 c'è una differenza che abbia un valore di 150 euro non ve lo so dire so solo che ragazzi potrà sicuramente essere un prodotto valido un prodotto che è molto molto interessante vi ricordo che questa non ha valore questa prova non ha un valore è un valore diciamo scientifico è solo una prova tra amici che si fa così mentre si beve una birra perché vi ricordo che questo tipo di volante sarà completamente è diverso di quello che sarà il csldd la struttura è stato ripensato la gestione del software l'ho detto prima quindi prendete questo video come un test tra amici però onestamente così oggettivamente 5 newton meter e 8 newton meter con una buona gestione dei filtri basta ed avanza io ragazzi vi ringrazio veramente tantissimo state sempre connessi perché ci sono tante novità a livello di mercato che stanno uscendo ci sono delle immagini particolari che ci daranno modo di poter discutere vi ringrazio per avermi seguito se siete arrivati fino a qui perché è durato un pochettino questo video qua come al solito un pollice in su se vi è piaciuto il video se l'idea vi piace e ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto noi ci vediamo prestissimo da Fabrizio è tutto ciao ciao